Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento Buonasera a tutti Non andare a intervenire quando è troppo tardi Ma lavorare sulla formazione e sull'educazione dei giovani e degli educatori Ma anche dei tesserati e delle famiglie A monte di tutto il percorso sportivo Lo faremo assieme a Salvatore Conte Che è il direttore scientifico del centro studi del CGFS Buonasera a tutti E lo faremo parlando del progetto Novis Che starebbe per No Violence in Sport Per introdurre di cosa stiamo parlando Mandiamo subito il contributo con l'intervista a Cristina Agostinelli Che è la responsabile dei bandi europei del CGFS Da cosa nasce l'idea del progetto Novis? Il progetto Novis nasce da un'esigenza Da un'esigenza che abbiamo sentito in qualità di educatori sportivi Di lavorare su un processo formativo più organico e strutturato Quindi un progetto che portasse lo sport come strumento Come strumento diciamo privilegiato Per trasmettere ai nostri ragazzi Un modello educativo basato appunto sulla non violenza Sulle competenze per la risoluzione del conflitto E per essere di fatto inclusivi Brato è stata capofila rispetto a sette paesi europei Di questo progetto e a cosa siamo arrivati? Allora all'interno del progetto Novis Hanno partecipato sette paesi europei Quindi altre associazioni sportive delle tantissime europee Anche enti del terzo settore All'interno del partenariato Vi era anche la regione toscana e anche il CONI Siamo arrivati a pubblicare degli strumenti operativi Che sono tutti inseriti all'interno di una guida metodologica Che è scaricabile all'interno del sito del progetto www.novisport.eu E questi strumenti operativi sono dei veri e propri vademecum Che sono indirizzati agli educatori sportivi e ai genitori Perché l'idea è proprio quello di attuare un processo Che metta in gioco tutti gli attori che possono intervenire Nel processo educativo sportivo Quindi da un lato gli allenatori e dall'altro le famiglie Non solo teoria ma anche pratica Perché poi si è andati effettivamente In alcune società e federazioni a insegnare questo modello Assolutamente sì Abbiamo avuto un'importante esperienza in primo luogo All'interno della scuola Che ci ha fatto un po' da apripista E poi abbiamo avuto un'esperienza anche all'interno della FIP Toscana Dove abbiamo presentato il percorso di formazione A quelli che saranno i futuri educatori o anche gli allenatori Quindi esistono dei veri e propri strumenti decodificati E il vantaggio di questo progetto è che Sendo uno strumento standardizzato Può essere applicato a 360 gradi in tutti i contesti sportivi Questo è quindi il punto della situazione all'oggi Cioè il CGFS e con lui la città di Prato Che sono capofila di una guida metodologica a livello europeo Contro la violenza nello sport E per educare i giovani e gli istruttori Alla giusto approccio allo sport E poi adesso verso cosa si va Conte? Ma intanto come diceva Cristina Si va a una standardizzazione del lavoro Che noi abbiamo ipotizzato nella formazione Cioè arriviamo sempre troppo tardi E recriminiamo sugli episodi di violenza quando accadono Quindi contrastiamo al momento sulle norme giuridiche Sulle regole, sulle squalifiche da combinare Ma non parliamo mai di ciò che è la prevenzione Alla violenza nello sport Violenza nello sport che peraltro si manifesta ormai Da troppo tempo anche nelle attività giovanili Persino nelle attività studentesche Negli anni passati abbiamo trovato momenti di forte tensione E di contrasto fra scolaresche Ecco noi abbiamo pensato che il lavoro debba quindi nascere dalla prevenzione E quindi dalla formazione di tutte quelle figure educative Che entrano a contatto col giovane Con una formazione che si rivolge quindi non solo allora E possiamo su questo fare riflessione sull'antico vecchio progetto Pensato da Don Gino Rigoldi e dai suoi educatori di Comunità Nuova di Milano Era denominato Iotifo Positivo Ha avuto molto successo in Italia e persino all'estero successivamente in altri paesi europei Ecco partendo da quelle esperienze Abbiamo fatto un lavoro molto intenso dal 2014 fino all'altro ieri Per andare a capire come possiamo formare e dare delle metodologie attive Importanti delle strategie didattiche per prevenire il fenomeno Lavorando sulle varie figure Quindi dal bambino all'istruttore, educatore, al tecnico sportivo Anche sul docente di scuola Perché il percorso è stato ipotizzato sia per il percorso scolastico Che è leggermente più facile andando a contatto già con delle figure educative Che nel mondo sportivo Ecco se vogliamo possiamo entrare in dettaglio su questo e come lo sviluppiamo Ecco il CGFS ha teso la mano alla FIGC Ad esempio dopo gli episodi di violenza nel calcio giovanile Proponendo una collaborazione Ma vuole estendere anche questo modello a livello regionale Vuole parlarne proprio con la regione per cercare di renderlo istituzionalizzato Esattamente Noi abbiamo letto gli appelli, le accorate difficoltà che ci sono E che molti dirigenti portano il loro disagio anche da buoni dirigenti sportivi Taluni davvero in difficoltà Abbiamo letto di qualche dimissioni fra tecnici o fra dirigenti dello sport e del calcio in particolare Noi a suo tempo già ipotizziamo uno sviluppo di Novis in Toscana Chiamandolo proprio Progetto Novis Toscana Abbiamo svolto alcune esperienze Raccontava bene Cristina con la Federazione Italiana Pallacanestro Soprattutto con il settore minibasket nazionale Ma grazie alla FIP Toscana abbiamo sperimentato un piccolo percorso Con due gruppi di educatori Una volta a Livorno e una volta a Firenze Abbiamo cercato di capire quale potesse essere l'interesse loro su taluni temi E se c'era volontà di sviluppare una formazione apposita Ecco, già allora abbiamo sperimentato e verificato che c'è un notevole interesse in questo senso Questo ci ha permesso di perfezionare il modello Di sperimentarlo nelle classi, in varie classi, nelle scuole E in talune squadre sportive Purtroppo l'annata della pandemia, gli anni della pandemia Non ci ha consentito di sperimentare su numeri molto più grandi Su campioni molto più larghi Però devo dire che le risultanze che già emergevano Su questo modello di formazione delle figure Sull'attenzione ai linguaggi che usano Alle strategie didattiche che si mettono in atto nei campi O nei giochi O nella scelta delle attività E dico nelle diverse età Perché ogni età ha la sua esigenza e particolarità Che si tratti di juniors o di bambini piccolissimi Ognuno di loro ha un linguaggio, un metodo Un coinvolgimento nell'attività Che deve essere chiaramente diverso Ecco, là dove abbiamo sperimentato una serie di situazioni formative E visto quello che hanno messo in atto poi i nostri educatori Nei progetti nelle scuole In vari interventi nelle scuole Ci siamo resi conto che c'è già delle risultanze piuttosto efficaci Quindi delle ricadute molto positive Questo ci ha permesso di dire Beh, adesso continuiamo Proponiamo un lavoro preventivo Proponiamolo dal mondo della scuola Fino al mondo dell'extra scuola Al mondo dello sport Ne parleremo Vogliamo parlarne con varie federazioni Ecco perché Nei momenti in cui i giornali parlavano di tutto ciò Noi abbiamo rilanciato l'idea Stampiamo in cartaceo La guida metodologica Che oggi è scaricabile in pdf Con tutti gli strumenti attuativi I logbook che possono aiutare la figura tecnico La figura docente a progettare e a verificare Gli apprendimenti e i comportamenti soprattutto Ecco, rilanciamolo in questo momento Io spero che riusciremo a stampare in breve tempo Anche la guida emodologica che è corposa Che ci ha impegnato per anni Che ha messo insieme vari cervelli europei Tecnici, docenti universitari esteri e italiani Quindi un grosso lavoro Che adesso davvero dobbiamo portare Ed estenderlo di più Per quello che abbiamo già visto di positività Il CGFS non mette a disposizione Solo la guida tecnologica Ma anche tutto il know-how acquisito Dai suoi educatori nel corso degli anni Perché è fondamentale Ripartire proprio dagli istruttori Dagli educatori e anche dalle stesse famiglie Per cambiare poi gli atteggiamenti dei figli Ecco, citavo il progetto Io Tifo Positivo Per le lunghe esperienze che ha fatto In varie parti d'Italia Con varie grandi squadre Anche nei vivai dell'Inter Con l'Olimpia Basket di Milano Cioè tutta una serie di interventi Che già gli educatori Io Tifo Positivo Hanno fatto nei dieci anni precedenti Noi abbiamo potuto provarli E attuare alcuni strumenti Con i nostri educatori Con un'azione che non è più solo rivolta ai bambini Una volta si pensava che l'importante era educare i bambini L'importante era far capire ai bambini Che dovevano rispettare delle regole Avere quel cosiddetto fair play Nella loro pratica sportiva Che fosse a livello scolastico o extrascolastico In realtà io credo che poi questi poveri bambini Arriviamo sempre a bastonarli quando commettono qualcosa di sbagliato A volte anche in maniera inconsapevole O non certamente in maniera così terribile come poi vediamo sui grandi campi di calcio Anche a livello di professionisti Noi crediamo che invece a educare la figura educativa che interviene nei loro confronti A educare il tecnico a usare determinati linguaggi A insegnare al tecnico come si possono mettere in atto delle strategie cooperative A trovare dei giochi che possa insegnare i bambini Pur in una situazione di competitività Come si può essere amico Relazionarsi e non diventare violento nei confronti del diverso O del compagno meno abile O addirittura essere esclusivo nei confronti di chi ha presente delle disabilità Ecco noi crediamo che capire come si possa lavorare sulla didattica Conoscendo delle metodologie che esistono Ci sono libri, ci sono decine di libri che parlano di questo e che insegnano come si fa Creando ad esempio un certo clima motivazionale nella classe o nella squadra Già si abbassa il livello di tensione, di cattive relazioni fra i ragazzi Quindi studiando queste cose, riuscendo a capire come metterle in atto Secondo noi aiuta molto E anche le figure di dirigenti che spesso sono molto insistenti nei confronti dei tecnici Tanto che denunciano un loro disagio crescente Perché si pensa solo alla prestazione, si pensa solo al risultato A tutti i costi vincenti, col bambino a tutti i costi Bisogna essere aggressivi pensando a quell'aggressività negativa Cioè che porta a conflitto Non a quella aggressività che porta a una migliore prestazione tecnica Ecco in questo senso noi crediamo che se loro cominciano a comprendere il linguaggio, i metodi La possibilità di interloquire diversamente, di porsi diversamente Il sistema piano piano si qualifica e migliora Gli stessi genitori, tutti noi raccontiamo sempre che stiamo dietro le reti dei campi di calcio O sugli spalti di una palestra Molto spesso si sentono in momenti di incitamento negativi Di critica o addirittura di offese verso l'avversario E non in una logica di contrapposizione competitiva sulle tecniche, sulla qualità, sulla prestazione Ecco noi crediamo che anche verso i genitori si possano mettere e formare modalità di linguaggio Di partecipazione sportiva, di coinvolgimento al tifo positivo Evitando tutto ciò che può essere una ricaduta negativa E portare violenza nei confronti degli atteggiamenti dei bambini, dei tecnici e di loro stessi Cioè un lavoro di formazione che previene Ecco perché noi crediamo nella prevenzione e non solo nel contrasto successivo Perfetto, io ringrazio Salvatore Conte per essere stato con noi qui stasera Il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto Questa è la sfida che lancia la città di Prato Che lancia il CGFS a tutta la regione toscana Ma anche a tutta la nazione E siamo convinti che questa è una sfida che potrà essere vinta Ringrazio di nuovo il nostro ospite E a voi vi auguro buona serata E vi rimando l'appuntamento intorno alle 9 alla prossima serata Grazie e buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti